Così è vero? No, sono state un buon anno che non lo so, non si può essere. Mi sento come una persona o un'altra via di una Marcia, non ci hanno fatto un po' No, non si, non si, non si. C'è un'altra? C'è un'altra? Cosa siamo un'altra? C'è un'altra? Non ci hanno fatto? Siamo un'altra? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.